Dottor Fulvio Bluni, si parla di influenza, accessi record nel fine settimana? Sì, accessi record. Domenica 7 abbiamo fatto 194 accessi dopo i 13 codici rossi, ma siamo un po' in linea con quelli che sono i dati regionali e nazionali che vedevano in questo periodo il picco influenzale, periodo che per il momento ancora obiettivamente non sembra terminare, che è cominciato intorno a Natale. Prevediamo che fino a più di metà del mese di gennaio ci sia un record di afflussi in pronto soccorso. Si parla tanto di prevenzione, di vaccini, però non riescono ad argenare questo fenomeno? Ma i vaccini sono utilissimi, venebbe farseli. Ti posso dire così, ma noi chiediamo a tutti i pazienti che arrivano se sono stati vaccinati e una grossa percentuale non si sono vaccinati, ma soprattutto non si sono vaccinati per i pazienti con pluripatologie, quelle dove c'è davvero l'indicazione a vaccinarsi e che di fatto necessiterebbero di una copertura importante quando si profilano, sempre in assoluto, ma soprattutto quando si profilano epidemie influenzali con un alto tasso di morbidità come questo. L'età? L'età è un fattore importante, anche perché molte persone anziane hanno più patologie, e quindi se non mettiamo un fatto infettivo sopra persone che hanno già patologie croniche, è chiaro che la situazione clinica peggiora e devono per forza ricorrere al pronto soccorso. Ecco, di queste persone che sono ricorse al pronto soccorso la maggior parte sono anziani? Sì, molti sono anziani, vengono anche persone giovani che forse sarebbe bene, come dicono tutti, non lo dico soltanto io, anche a livello nazionale, tutti gli epidemiologi dicono che le persone giovani si dovrebbero trattenere a casa, dovrebbero starsene a casa, al caldo, starsene 5 o 6 giorni a riposo, altrimenti vengono al pronto soccorso e rischiano di contagiare gli altri, si hanno un'influenza e questa è la prima cosa, e poi di fatto non possiamo fare altro che dargli la terapia che potrebbe dare il proprio medico di base. Ma sono autopresentazioni e qui non ci sono colpe dei medici di famiglia o altro, sono persone che si sentono male e che vengono al pronto soccorso. Noi abbiamo il dovere di assisterli, però devono anche capire che di fronte a certe situazioni passano avanti le persone davvero gravi e in pericolo di vita. Ci vorrebbe forse una maggiore disponibilità dei medici di base nei fini di settimana? No, ma questo è un vecchio problema che non si risolve sempre e tutti gli anni torna fuori quando ci sono epidemie influenzali. C'è un contratto, i medici di base lo rispettano, è giusto che sia così, però bisogna anche che, diciamo così, chi usufruisce del pronto soccorso sappia che tutti i pronti soccorsi in Italia e nel mondo devono privilegiare sempre coloro che hanno situazioni cliniche gravi. E quindi di fatto chi viene in pronto soccorso in situazioni cliniche meno gravi deve per forza aspettare. Questo è normale, è normale perché io credo che chiunque voglia vedere trattato prima il paziente grave e noi abbiamo un'etica professionale che ci impone di trattare prima i pazienti gravi. Poi chiaramente trattiamo anche gli altri, ma con tempo e modalità diverse. Avete comunque predisposto delle misure per questa epidemia? Sì, noi fin da novembre abbiamo un piano di sovraffollamento proprio in previsione di questa ondata influenzale che quest'anno è stato redatto in modo specifico in accordo con la regione toscana. Per cui al momento in cui vengono superati certi valori soglia che noi costantemente monitoriamo tutti i giorni, attiviamo questo piano. Questo è accaduto domenica. Domenica mattina mi hanno chiamato al pronto soccorso perché c'erano dei numeri che superavano i valori soglia che noi ci siamo dati. I valori soglia sono quelli su cui noi ci tariamo e sappiamo che tipo di risposta dobbiamo dare. Quando si superano per più giorni consecutivi questi valori soglia si attiva il piano di sovraffollamento e consiste nel aver aperto 10 posti letto in più per la medicina d'urgenza dove ci troviamo ora. Non sono questi posti letto, però i posti letto sono da un'altra parte però se ne occupiamo noi del pronto soccorso medicina d'urgenza. È stato rinforzato il personale medico e infermieristico per gestire questi pazienti fin da domenica. Mi preme sottolineare un fatto importante che al di là di certe polemiche sui social che io non seguo francamente e che sono anche un po' stucchevoli talvolta sugli operatori del pronto soccorso, medici, infermieri, osse eccetera ecco domenica quando abbiamo attivato il piano di emergenza non solo sono arrivate le persone in più che dovevano arrivare ma si sono trattenuti al lavoro spontaneamente medici, infermieri ed osse che smontavano alle due e mezzo a cui non è cascato la penna come si fa in altri lavori si sono fermati volontariamente per aiutare quelli che già erano oberati di lavoro io credo sia un bel segnale nei confronti dei pazienti perché il nostro primo interesse è il paziente hanno tutto il resto e non interessa e ci interessano soprattutto i pazienti che stanno male. E allora ai pazienti che potrebbero stare male qualche consiglio per l'influenza? Vaccinarsi il prossimo anno anche se si pensa che là anche se si pensa che di fatto cioè noi sappiamo grossomodo a settembre la tipologia di influenza che viene ma anche se si pensa che venga un'influenza meno virulenta di quest'anno vaccinatevi perché altrimenti certe problematiche possono davvero diventare serie e di difficile gestione e non è un problema solo di sovraffollamento del pronto soccorso è proprio un problema di salute e soprattutto le persone anziane o pluripatologia si devono vaccinare.